Musica Un cordiale saluto, buongiorno e ben ritrovati a tutti carissimi telespettatori di Fano TV questa è la rassegna stampa, occhio ai giornali occhio ai giornali che come sempre comincia con il santo del giorno e lo vediamo subito, oggi la chiesa cattolica ricorda Santa Maria Eugenia di Gesù il sole è sorto alle 6.28 e tramonterà alle 18.09 il tempo oggi, ancora tempo con precipitazioni a carattere di rovescio nel settore costiero e primo collinare centro-meridionale diffuse precipitazioni più abbondanti nel settore interno, sempre nel sud della regione dalla serata ci saranno possibilità di piovaschi sparsi anche nel resto del territorio provinciale quindi da questa sera torna di nuovo la pioggia, vedete questa mattina ancora abbiamo un po' di tempo nuvoloso con un po' di schiarite, niente pioggia poi nel pomeriggio dalla serata avremo possibilità di piovaschi il limite delle nevicate sarà attorno ai mille metri le temperature sono in diminuzione nei valori minimi, stazionari in quelle massime per domani, venerdì 11 di marzo, ecco il tempo che continua ad essere perturbato con precipitazioni anche a carattere di rovescio temporale al mattino con intensità maggiore in collina e nelle zone interne meridionali l'attenuzione dei fenomeni è prevista soltanto nel pomeriggio con le nevicate che si attesteranno attorno ai mille metri le temperature sono in aumento le minime, stazionari o in lieve aumento le temperature massime per la giornata di sabato le precipitazioni rimarranno soltanto nel sud della regione con limite delle nevicate attorno ai mille metri, quindi intorno ai Sibillini poi le temperature saranno senza variazione di rilievo rimangono instabili le previsioni per la giornata di domenica e l'inizio della prossima settimana Allora, adesso andiamo a leggere i giornali c'è la notizia che riguarda l'incendio del pesce azzurro lo ricorderete ormai diversi anni fa ci sono dei colpi di scena che adesso andremo a vedere due giornali in particolare che trattano questo argomento in prima pagina su Fano il Corriere Adriatico ed il Messaggero andiamo a vedere, partiamo dal Corriere Adriatico dal Rogo spunta il progetto di un omicidio i pugliesi avevano lasciato una tanica quella che tra l'altro vi abbiamo fatto vedere e mostrato per primi subito nell'edizione speciale, nell'edizione straordinaria del nostro telegiornale dell'epoca i pugliesi, dicevo, avevano lasciato volutamente una tanica per incastrare un ex socio pesarese che volevano ammazzare ma è stata proprio quella traccia a condurre gli investigatori ai veri responsabili delle fiamme lo scenario delineato ieri nell'ultima udienza del processo concorrenza e pericolosa criminalità questo è l'articolo di Elisabetta Rossi che troverete sul Corriere Adriatico così come l'articolo che invece campeggia in prima pagina sul sufano del messaggero Rogo al Pesciazzurro il piano di un omicidio nuovo colpo di scena nell'udienza al processo per l'incendio doloso per l'attentato al noto ristorante dovuto a motivi di concorrenza sono imputate sei persone vedete come era finito, come era stato ridotto il Pesciazzurro il 25 giugno del 2010 un testimone ha rivelato che esisteva anche un progetto per assassinare un socio in affare che come abbiamo detto è un pesarese e quindi questa è la notizia in evidenza per la giornata di oggi poi ieri c'è stato il faccia a faccia adesso andiamo sul Carlino, la pagina principale di Pesaro eccolo qua, un faccia a faccia per la prima volta la mamma di Ismaele Lulli il 17enne di Sant'Angelo Invado ucciso dal reo confesso Igli lo vedete in questa foto e con la complicità di Mario dietro ecco, il primo faccia a faccia con i carnefici a carico degli albanesi anche l'accusa di sevizie questa è la prima pagina del resto del Carlino due pagine troverete all'interno acquistando il giornale questa mattina noi ne leggiamo una sei coltellate per torturare Ismaele spunta l'aggravante delle sevizie e Igli salva l'amico Mario non ricordo se ha detto uccidilo sei lesioni di arma da punta mentre lo studente 17enne era ancora in vita questo è quanto emerge dall'autopsia effettuata sul corpo del povero 17enne Ambera, la ragazza che avrebbe scatenato appunto la gelosia di Igli l'ex ragazza di Igli se ne sta per molto tempo nella casa di Lunano e vede poca gente Ambera è comunque fuori dai giochi e allora le altre notizie gli altri fatti di cronaca soprattutto dal resto del Carlino con tanto di racconto di vignette per far capire ancora meglio al lettore come sono andate le cose i minuti i 15 minuti di terrore che ha vissuto un'anziana che è stata rapinata nella sua abitazione a Morciola il bandito si è ferito rompendo il vetro della finestra voleva i soldi racconta questa anziana gli ho detto che avevo solo 50 euro nel vaso e ho telefonato a mio figlio quindi è stata minacciata a più riprese la donna ha 88 anni pensate l'uomo era italiano non di queste parti ma incappucciato indagano i carabinieri e poi sulle bollette pazze Eracom farà delle rateizzazioni il passaggio di sistema stiamo parlando di computer evidentemente ha creato dei problemi c'è chi ha fatto telefonate al legale come faccio a pagare certe cifre entrano arrabbiati ma vengono tutti ascoltati e poi comunque da quello che si evince da questo pezzo questa mattina insomma queste bollette pazze quindi con importi superiori di importi molto alti potranno essere pagati a rate poi ancora dal giornale dal resto del carino apriamo la pagina di Fano eccola qua il noto noto locale soprattutto frequentato durante l'estate e non solo viene acquistato da Berloni della Dondapp Berloni lo vedete qua sotto Berloni che si prende dunque il Calamara ha firmato l'accordo il noto locale del Lido cambierà nome la famiglia fanese cede perché è sempre più impegnata nel settore del gas e del petrolio poi l'altro l'altro annuncio ve l'abbiamo dato anche ieri sera nel corso del telegiornale siccome i familiari ci hanno gli amici perlomeno ci hanno chiesto di diffondere questo annuncio che riguarda purtroppo un lutto ma oggi pomeriggio alle 15 nella chiesa dei Santi Pietro e Andrea a Fenile ci saranno si svolgeranno i funerali di Francesco Paterna il 42enne militare in servizio all'aeronautica di Rimini morto per cause naturali l'altro giorno nel pomeriggio il suo corpo senza vita è stato ritrovato nel bagno di casa originario del sud da diversi anni si era stabilito a Fano dove lasciano la moglie e due figli dunque oggi pomeriggio alle 15 per l'ultimo saluto appunto al 42enne che abitava a Fenile di Fano poi la piaga della sclerosi multipla non c'è alcun sostegno per i malati e le famiglie figlia e nipote ne soffrono c'è lo sfogo di un 72enne per molti è sconosciuta un corridoio preferenziale sarebbe auspicabile parla Mario un 72enne pensionato che conosce bene il problema perché lo sperimenta tutti i giorni sulla pelle di sua figlia e di sua nipote parliamo ancora della sclerosi multipla poi vongolari sui vongolari e i problemi Carloni va a Roma scrive il resto del Carlino visita al sottosegretario Giuseppe Castiglione che vedete a sinistra in questa fotografia questo per appunto cercare di risolvere il problema che riguardano le vongolare poi andiamo sull'altra pagina e torniamo sul Corriere Adriatico da Fano Seri e il Partito Democratico cercano una via d'uscita cresce l'irritazione del sindaco attaccato dalle minoranze per la delibera sul Fosso Segiore l'atto sfuggito al controllo dei consiglieri regionali Rapa e Minardi la minaccia di bloccare l'ospedale unico la pagina di Pesaro invece più controlli sulle società partecipate richiesta della CGL all'assessore al bilancio confermato il fondo di solidarietà per 250 mila euro poi colpito da Alzheimer un imprenditore non è più processabile è accusato di aver evaso 300 mila euro di IVA ma il suo legale presenta un certificato nel quale c'è scritto non è in grado di capire cosa gli accade intorno e quindi non è più processabile il giudice però ha nominato un perito con il compito di verificare le condizioni di salute dell'imputato da Senigallia invece braccio di ferro dei campeggiatori non vogliono essere sfrattati dal lungomare dalla spiaggia di Velluto spiega Iorio Tombesi dell'associazione di categoria Confcommercio campeggiatori noi continueremo ad opporci così dice lui e poi dal messaggero invece la pagina principale quella di Pesaro ancora sul referendum dei scatta la corsa i consigli dei quattro comuni interessati alle fusioni si riuniranno domani per votare è l'unico modo per rispettare i tempi tecnici e chiamare alle urne i cittadini il 17 di aprile poi c'è la fotografia che riguarda la vittoria della VL che batte la squadra di basket del Trento all'Adriatica Arena e tira un sospiro di sollievo poi anche qua la cronaca l'omicida chiede perdono alla mamma di Ismaele inchiesta alla conclusione per il PM Meta merita l'ergastolo e ancora nelle pagine interne spiagge vendita all'asta e balneatori chiedono più tempo indennizi la rivoluzione Bolkestein le associazioni incontrano Pieroni l'assessore consegnerà il memorandum al ministro Costa fusioni ci sarà il consiglio comunale dei dopo il via libera dalla regione e dalla prefettura ma il comitato del no di Monbaroccio dice era meglio rimandare tutto in autunno sono stati commessi altri errori nella legge regionale per accelerare questo ITER e ancora strade allagate e auto fuoristrada la pioggia che è caduta abbondantemente nella giornata di ieri per tutta la giornata di ieri ha causato allagamenti e incidenti in zona Montefabri una signora ha perso il controllo della sua automobile e poi ancora foto hard su facebook due persone sono state ricattate da queste ragazze che ti chiedono l'amicizia su facebook cominciano a chattarti come stai come sei sei da solo tra l'altro sono anche molto questo succede a tutti perché sono arrivati a tutti questi messaggi è anche molto facile capire che si tratta di una truffa perché innanzitutto sono molto avvenenti e poi ti chiedono praticamente dopo la terza domanda ti chiedono già se sei impegnato o fidanzato o quant'altro quindi già lì ci vuole poco a capire che questa è una cosa però c'è che c'è caduto c'è cascato e quindi poi sono stati ricattati perché evidentemente si sono scambiate delle foto un po' osè e quindi mentre dall'altra parte il personaggio era finto chi ha dato le foto osè dalla parte maschile era vero e quindi ricattabile due persone che sono due giovani ventenni della provincia di Pesaro uno di Urbino e l'altro di Fermignano ok adesso l'ultima pagina l'abbiamo già vista quella di Fano del messaggero oltre alla notizia del processo con il colpo di scena al pesce azzurro c'è anche la notizia che presto in arrivo nelle case di 1800 fanesi arriverà il metano quindi arriveranno anche di conseguenza i risparmi per la per la bolletta soprattutto per quando si tratta di riscaldare la casa durante l'inverno per esempio l'opera consentirà risparmi alle famiglie tra il 35 e il 50% è tutto Occhio giornali torna domani mattina alle 7.30 sempre in diretta grazie per averci seguito a voi tutti l'augurio di una buona giornata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.